Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Agropoli due regolamenti inerenti le morosità relative ai tributi modificati nella seduta del Consiglio Comunale del 31 dicembre scorso, approvati su proposta dell'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi e votati dalla maggioranza consigliare guidata dal sindaco Adamo Coppola. Si tratta di due provvedimenti molto importanti. Riguardano la modifica dei regolamenti comunali in materia di rateizzazione dei tributi comunali, con la quale è stato incrementato da 48 a 72 il numero delle rate mensili concedibili qualora l'importo del debito sia superiore a 10.000 euro. Rispetto a tale cifra, è stato altresì disposto l'obbligo di presentare idonea garanzia mediante fideussione bancaria o assicurativa. Inoltre è stato eliminato l'obbligo di versare un acconto pari al 20% dell'importo per il quale viene richiesta la rateizzazione. Entrambi i provvedimenti, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore Roberto Mutalipassi, hanno l'obiettivo di venire incontro alle gravi e oggettive difficoltà in cui versano tante attività economiche e numerosi cittadini.